Sì, si è spuntato qui, guarda, che ore sono? Aspetta, allora vannoci a vedere, Claudio, un attimo, falla pure con qui, un attimo. Dai, se no io si scoccia la pasta, ciao, ciao. Ciao, buona salata. Ciao, ciao, grazie. Si scoccia la pasta che gli ha fatto, cacio e pepe. Noi invece abbiamo aggiunto pasta e patate, era ora di mangiare un piatto buono. Questo è l'orologio che segna l'ora che desideri, l'ora dei soldi.